Sì, è stata una buona gara, affrontata secondo me nella maniera giusta, però non basta, non basta perché dobbiamo iniziare a fare i punti, perché le partite iniziano a finire. Dobbiamo continuare così a livello della prestazione, sì, però metterci qualcosina in più perché il campionato va dritto veloce e noi dobbiamo iniziare a fare i punti. Sì, 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 è peccato, perché come ho detto prima abbiamo fatto una buona prestazione, però dobbiamo migliorare in alcuni dettagli, in alcuni dettagli per farci vincere le partite o anche pareggiarle, perché comunque venire qui a Bari e fare anche un punto è importante per noi, per il morale e per la classifica soprattutto. Però dispiace, ma dobbiamo rimetterci subito a lavorare per affrontare nel miglior modo possibile la partita con l'Ascola. Sì, sì, è una partita determinante per noi, come sono state anche Palermo e Bari, perché ormai tutte le partite sono fondamentali, perché non possiamo permetterci di regalare punti. Dobbiamo continuare così, come ho detto prima, a livello di prestazione, però migliorare nei dettagli. Grazie a tutti.